Classe 1975, napoletana ma originaria di Ariano e da tre anni cittadina a tutti gli effetti del tricolle. Marianna Rogazzo è la campionessa mondiale IFA di tiro con l'arco nella categoria arco nudo, in sostanza quella che si pratica senza ausilio di mirini e stabilizzatori, in cui bisogna colpire bersagli in gomma raffiguranti animali fino a 55 metri di distanza. Per Marianna l'anno scorso a Firenze è la consacrazione mondiale, dopo dieci anni passati ad allenarsi tra i boschi irpini e sanniti. Oggi insieme al marito, Domenico Paonessa, anche gli arciere, campione regionale della categoria, ha costituito l'associazione sportiva dilettantistica ASD Arcieri del Tricolle per far conoscere lo sport anche nella provincia di Avellino. Al momento Marianna sta affrontando la preparazione fisica in vista delle qualificazioni ai prossimi mondiali di specialità. Per questo è tornata a vivere nel paese d'origine del padre, Ariano Irpino. La sua casa è infatti immersa in un piccolo bosco dove lei, freccia dopo freccia, continua ad allenarsi ogni giorno per colpire il bersaglio.